Il più difficile è saldare tutti i pezzi con il rame e la saldatura. Vedete che non è fatto bene, perché è molto difficile, soltanto gli esperti sanno farlo proprio bene. Senti, ma saldare, che idea ti sei fatto di saldare? In pratica cos'è saldare? Riscaldare il rame, no, lo stagno e farlo surriscaldare per attaccare i pezzi che in questo momento sono di rame a questo pezzo che serve per farmantare l'elettricità. Ho capito, quindi è una cosa abbastanza complessa che avete fatto oggi. Mi fai vedere come funziona? L'elettricità arriva da questa batteria che vanno i fili. Questo è negativo, questo è positivo. Mandano l'elettricità in questa basetta e mandano l'elettricità in tutti questi pezzi. Vedete questa parte verde? Nella bianca. Nella bianca passa tutta l'elettricità. Qui manda l'elettricità che questo è. Sono tutti i macchinari che servono per far funzionare la faccetta. Molto bene, grazie Marcello. Grazie. 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 Grazie.